Raffiche di vento importanti hanno provocato nuovamente danni in Valdichiana. Un albero è crollato sulla regionale 71 intraversandosi sulla sede stradale all'altezza di Vitiano provocando l'interruzione della circolazione delle auto. A Castiglione Fiorentino i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a causa di un albero pericolante e quindi pericoloso sempre a causa delle forti raffiche di vento. L'albero verrà abbattuto, intanto è stata messa in sicurezza la zona. Si segnala anche una frana al parco della comunanza e altri alberi caduti nelle vicinanze. Intanto i danni causati dal maltempo dei giorni scorsi e il perpetuare di una situazione instabile con vento e pioggia continui stanno obbligando gli operai dell'amministrazione comunale di Cortona a intervenire ripetutamente per ripristinare i luoghi e le strutture interessate dal maltempo. Oltre a problematiche nei centri urbani di Camuccia e Terontola sono state registrate criticità anche nella zona della montagna dove in queste ore si sta concentrando il lavoro del personale di manutenzione.